Il video è così nella stessa posizione, mentre che ce l'ha attaccato? Si, è attaccato. Qual era questo? Di qua si può andare dritto? No, non può andare. Poi per fermarlo la mi pare ce l'ho stoppato. Io vi facevo attendere un'altra stanza per mia figlia. La vicino, c'è anche dalla mamma di mio genio. E io le voglio. Si vede una meraviglia questo telefonino. C'è un telefonino. Bagno. Bagno, cucina. Lasciate il telefono. Il cortile. Hai visto il cortiletto una? Potevo fare un'altra stanza. 5 megapixel. Bello. E di qua che c'è il divieto del transito? Divietoretta. Se ne sono andate tutti i soldi? Poco mi è rimasto. Quando ti è rimasto? Sì. Allora. Sorridi, sei su che ti chiamerà? Buongiorno. Siamo su... Devo mettere una parte vincolata nell'assicurazione che la devo ritrovare l'anno prossimo che se non la pago la perdo tutta e poi mi rimane poco, poco, molto poco. Grazie a tutti. Grazie a tutti.